Oggi signori siamo su un video molto particolare perché Minecraft ha creato un evento con un loro server ufficiale E' la prima volta in assoluto che viene fatto un qualcosa del genere E questa è la descrizione, Minecraft Legends Evento Live Festeggiamo il nuovo gioco dove Jeb, quindi uno dei creatori insieme a Notch E la streamer AnaxRose, che tra l'altro da poco c'è stato un mezzo scandalo su di lei sto pensando se farci un video Ti danno il benvenuto in un evento live esclusivo questo fine settimana In realtà hanno bisogno del tuo aiuto, collabora con giocatori di tutto il mondo per aiutarli a respingere i piglin Che stanno cercando di conquistare il soprammondo, quindi l'overworld Metti alla prova le tue abilità con il parkour e altri minigiochi E c'è su Nintendo, su Playstation, PC, ovunque E il Minecraft Windows 10, quindi letteralmente ovunque Ci sono ulteriori informazioni ma aprono un'altra pagina dove spiegano semplicemente Minecraft Legends Io direi a questo punto di fare partecipa ora Ok, ci connette direttamente al server Dobbiamo scaricare una texture pack a quanto pare Tra l'altro questo evento dura due giorni Sono venuto a sapere di questa cosa all'ultimo, mancano poche ore Quindi, meno male, mi raccomando regà, lasciate un bel like In questo server le skin personalizzate sono disabilitate Puoi scegliere una skin diversa dal camerino Ah, quindi non c'ho la mia skin Ok, e fa entrare in una modalità che è già attiva Dobbiamo fermare i piglin da questa invasione che stanno facendo E ok Sta parlando Anna, la streamer Attacchiamo il portale Ok, quindi abbiamo difeso E ora dobbiamo attaccare noi Dobbiamo sfondare il portale, quindi Ok, sconvincendo i pigli si ottiene oro Che possiamo Comprare Direttamente quello che vogliamo Pozione della salute Corno di capra della paura Ma quindi io lo vedo in italiano Ma contemporaneamente tutti gli altri lo vedono in altre lingue Sta roba è figa Oddio c'è Anna Ma Oddio quanti sono Ok È una sorta di invasione zombie Ok Sono curioso di sapere le altre fasi che ci sono in realtà di sta roba Allora Ah, qua dice pure quanti piglin uno sconfigge Diciamo che hanno creato un evento tipo invasione zombie Però fatto con i piglin Oh, sto morando Andiamo un attimo con l'arco magari, eh C'è anche un piglin con la nederite Che figata che sentiamo la streamer parlare Sta roba mi ricorda un botto gli eventi Fortnite, ve lo giuro Finalmente Minecraft crea degli eventi sui Oh No, 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 no È la mega fin È la mega fin Oddio Ma non posso uscire? Devo aspettare Qualcuno mi deve liberare Au Liberatemi No, non posso chattare Oh, mi hanno liberato Ok Dobbiamo resistere altri tre minuti Quindi va a tempo E ci sta Jeb che ci sta dando dei consigli Tipo che ci dobbiamo muovere e cose del genere Che figata sta roba Spero che col tempo poi gli eventi li faranno sempre meglio Qualcuno ha comprato del tritolo e sta per lanciarlo Ah, ci stanno proprio consigliando come giocare e tutto Ma guarda che passa lì, così, nel chill, passa Qui cosa c'è scritto, scusa Premio impulsato per liberare i giocatori Ah, ok Giustamente per salvare gli altri A posto Secondo Seconda ondata fermata Sono curioso di capire cosa succede alla fine Ok Andato distrutto A questo punto direi di unirmi anch'io E compro pure una TNT Guarda pure Jeb Ok Ondata finale Sono curioso di sapere cosa succede dopo E quanta gente in realtà si butta in sta ondata Ok Andiamo qua La piazzo Eh Anzi 19 di oro tutti in una botta Ho fatto grande esplosione suprema Io qua E mi ha dato la spada in nederita il gioco Guarda che ho mandato tutti a pochissima vita Sto shottando tutti Ma sono troppo forte No, e sto finendo di nuovo le calava però Eh Ragazzi Ho fatto un piccolo errore Io tra l'altro tra poco posso comprarmi un'altra di TNT E così quasi lo faccio Sbaglio siamo in di meno davanti Che stanno difendendo Eh Ragazzi Eh Ah qua ci sono messi proprio all'inizio Vabbè Io mi prendo un'altra TNT al volo E si fanno esplodere di nuovo tutti Sì Anna l'ho comprata io la TNT Perfetto La mettiamo proprio qua dove spawna no? Anzi qui ce ne sa No No Ma come? Ma non c'era nessuno Stanno dicendo che avevo perso No 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 Si riprova Si riprova per forza Dobbiamo risettare questa cosa E teletrasportare tutto indietro Minecraft Legends Anche se ci troviamo nel Minecraft originale Abbiamo creato questo mondo a tema Legends Ci sta è carino Ok tra 5 minuti Starta di nuovo l'evento E' utile di riprovarlo a questo punto Guarda che pure loro utilizzano le texture pack A modo loro per fare le cose carine Qua del checkpoint Con la freccia indietro Eccetera Ah vabbè Comunque stanno sponsorizzando a stecca Il nuovo gioco Minecraft Legends Dicendo che è bellissimo Che è assurdo Che è un botto di roba bella E tutte robe del genere Quindi wow Mi vogliono convincere a comprare Minecraft Legends Questi Sono pazzi Stanno parlando Continuano a parlare Continuano a dire tantissime cose Parlano a raffica Questi Parlano di golem Di mob Ah Perché è fatto a forma di nuovi mob di Minecraft Quello è un nuovo mod di Minecraft Pure questo mi sa Sì Sì pure questo Vabbè signori Questi parlano Sto dicendo cagate Direi di aspettare direttamente Quando c'è questa presentazione pazza E di riprovare direttamente a rifare l'evento C'è Jeb che è da due minuti Che sta dicendo che ha preparato Una preparazione assurda Incredibile Se non hai preparato qualcosa di assurdo Mi arrabbio Non possiamo muoverci Ok vediamo un po' Qualcuno Il sopramondo prima era un posto tranquillo Poi sono arrivati i piglin E tutti quanti volevano ammazzare tutti E fin qua lo sappiamo tutti quanti È la storia del gioco E vabbè fin qua Passiamo ai segreti Ma 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 E perché lui si può muovere Sta citando Perché lui si poteva muovere per il primo Sta citando sul server di Minecraft Non ci credo Ok Vediamo di rifare al volo Sto trariardando un casino Ve lo giuro Infatti mi sono messo il lato di sotto Perché a quanto pare entrano anche da delle spaccature laterali Dove però non si mette quasi mai nessuno Scusa Cosa significa questa icona? Ho raccolto legno per fare una nuova struttura E qual è la nuova struttura? Non ho idea Ah abbiamo creato dei nuovi muri che li vanno a rallentare Ok sfondiamo il portale di nuovo primo round Sto giro vado di pozioni Arrivano di nuovo Andiamo di forza Così che li massacriamo Ma c'è uno che c'è la skin del Wither raga Che sta combattendo con noi Ma com'è possibile? C'è proprio È un Wither Eccolo guarda Ghost Flame È un Wither Oh guarda 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 che entrano di lato Beccati proprio Perfetto Sto conservando tutto per il round finale raga Perché secondo me Serve Guarda quanti sono qua di lato e nessuno li pensa Ci penso io qua Guarda sono completamente da solo qua guardami Va bene Non ho paura Mi smonto tutti Tutti Sì sì tu con l'arco tranquillo Ok Secondo round Ok E ora io shoppo tutto Ma proprio del tipo Due TNT E subito dopo Non appena faccio i primi pezzi di oro Vado giù di pozioni di forza Vado subito così Si piazza qua una TNT iniziale Olè E se ne butta subito un'altra E ora si va giù di pozioni Pozione di forza Eccole qua Si prendono due In modo tale che si shottano il più possibile Ci sono morte delle persone Le salvo io subito Perfetto Vai 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 Dai lati Tutto a posto Sì Allora si continua a tankare davanti Sto tryhardando eh Mi sto impegnando un botto Ve lo giuro Ok Arrivano dai lati Ci penso subito io Perfetto Olè Perfetto Andati tutti E tra poco si va giù di un'altra TNT Dai lati non sembrano arrivare altri Ma No no questa è una scammata Questa è una scammata Ma non ce n'è nessuno No 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 ci hanno scammato No no ci hanno scammato Non si può vincere Ma non ce n'è nessuno Non ha perso niente di vita No 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 Mi stai scammando tu eh Guarda lo stanno No 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 questi stanno scammando Ragazzi mi sono andato a cercare su google E in realtà no Cioè l'evento finisce Si può vincere L'unica cosa che cambia E che alla fine Tu finisci l'ultima ondata E ti esce la scritta You win sullo schermo Il punto qual è E che Noi non abbiamo fatto niente di diverso rispetto a loro Anzi Io ho fatto anche molte più kill Molto più danno Per esempio di questo ragazzo qua in questo video Però perché A lui ha finito l'evento e a me no E comunque non succede nient'altro dopo Quindi Non ci siamo persi nulla Però io la volevo la win Volevo la scritta You win Nulla signori Fatemi sapere cosa ne pensate Secondo me questo è l'inizio Di tanta tanta roba Che possono fare quelli là su minecraft Spero li facciano spesso eventi del genere Mi raccomando lasciate un bel like Ci si becca domani con un nuovo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.